Due vittorie in cinque gare per la selezione maschile under 15, un'esperienza comunque utilissima pur a fronte di cinque sconfitte per l'under 14 femminile. Si è concluso con il settimo posto dei ragazzi e la decima posizione delle ragazze, il Memorial Fabri di Romagna, prestigiosa manifestazione di pallacanestro giovanile, giunta alla quinta edizione. La vittoria è andata agli under 15 della Lombardia e alle under 14 dell'Emilia Romagna, al Don Bosco Crocetta Torino, il primo posto nel torneo under 17 riservato alle società. A suggellare il cammino della rappresentativa maschile classe 2000, un bel successo contro la Liguria dopo il positivo esordio con l'Umbria, la buona prestazione con il Veneto e le altre due sconfitte contro i più tonici Piemonte e Trentino. La mentalità è stata quella giusta, i ragazzi hanno veramente dato tutto e onorato la maglia, gli abbiamo visti buttarsi a terra, lottare sui palloni, sicuramente con squadre fisicamente ed anche tecnicamente nettamente superiori a noi. In più abbiamo dimostrato comunque una crescita costante. Nel tabellone rosa invece la selezione 2001 si è rivelata piuttosto acerba, battuta da Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Marche, Liguria e Umbria. Per la rappresentativa femminile Under 14, il Memorial Fabri, prima esperienza fuori regione, resta comunque una bella e positiva esperienza. Il primo test che affrontano queste ragazze, i problemi sono stati tanti dal punto di vista della tenuta mentale perché sicuramente abbiamo incontrato delle difficoltà che in qualche modo hanno scoraggiato le ragazze per cui c'è stato anche in qualche caso un crollo nella motivazione durante le partite. Questi aspetti tecnici andranno poi curati in condizioni sicuramente più favorevoli. Test impegnativo non solo per i giocatori, il Memorial Fabri, ma anche per i 35 giovanissimi arbitri chiamati a dirigere i quasi 80 incontri complessivi. Ottimo il comportamento dei quattro fischietti pugliesi, Francesco Anselmi, Angelo Iaia, Deborah Fiorentino e Martina Manzari, gli unici due arbitri donna presenti alla manifestazione. Grazie.